Allora, Steven, ne abbiamo parlato in passato, io avrei messo Shad Gable e l'ho dichiarato apertamente. Shad Gable con la figlia in prima fila. Hai la storia, hai di che raccontare. La figlia che si muove, si agita, piange, Günther che la minaccia, gli fa brutto con la faccia e via dicendo. E' lì, è scritta. Shad Gable è l'unico che ha battuto, seppur in maniera non decisiva, l'avversario. E certo, Samisen è più blasonato, lo scorso anno era amatissimo, tutto quello che vuoi, ma Samisen ha una storia da underdog già vista. Shad Gable ha quell'appiglio familiare che gli dava una marcia in più. Ora, la situazione credo che possa anche volgere, magari il RAW che si svolgerà tra poche ore mi smentirà, in un Shad Gable diventa l'allenatore di Samisen. Gli ha detto che non può battere Günther, ne ha avuto esperienza diretta, ha appreso dalle loro sfide e quindi può tramandare la sua scienza a Samisen. E qualora Samisen dovesse battere Günther, poi Shad Gable potrebbe passare all'incasso, sia da buono che da cattivo, dicendo mi sei debitore, mi devi della riconoscenza, adesso divento io il tuo sfidante. Però, nei due scenari, sarà che sono un vecchio, inguaribile, sentimentale, io avrei fatto quello con Shad Gable. Che ha un rovescio della medaglia, che va considerato, magari anche per questo motivo, hanno selezionato l'altra strada. Ovvero che devi coinvolgere una minore, che deve saper fare quello che deve, che deve essere spontanea, e che davanti ad una telecamera non sai mai cosa può fare. Quindi c'è anche questo da mettere in conto. È una nuova WWE, con le telecamere che vanno ad inquadrare i cartelloni. E questo mi piace, perché tu ti sbatti, proponi un cartellone, almeno l'hanno fatto la scorsa settimana, lo mostri, è come nelle partite di basket, o di football, o di baseball, che ci sono tutti questi momenti, ci inquadriamo i cartelloni e vai anche in tv, non lo facciamo durante le pause che poi vengono tagliate. E quindi magari c'è anche un'attenzione diversa rispetto a queste tematiche in confronto al passato. Magari effettivamente la figlia di Gable era lì quella volta, anche quasi casualmente, ed è un conto, ma l'andare a studiarsi un suo coinvolgimento potrebbe essere più problematico. Quindi io vado a pensare anche questa roba qua. Però, lo ribadisco, tra le due storie, e sapete che a Saint-Misein voglio bene, l'anno scorso desideravo, speravo che vincesse il titolo, mi siete testimoni, ve l'ho raccontato, però in questa particolare circostanza, da storyteller, la storia migliore da raccontare per me, era quella di Shad Gable. Ma potete dissentire e dirmelo nei commenti. D'altronde a volte la vita è così, però, tutto sommato, in WWE da tanto tempo, e anche se non vince dei match importanti in singolo, almeno quelli titolati, comunque ha un lavoro, una stabilità lavorativa, la trovata in WWE, che non è da schifare. Visto che, insomma, ci vivi, ci vive la tua prole, ci vive la tua famiglia, e riesci ad andare avanti, insomma.